Signori, codice d'onore, rirecensione di questo film che è un super caldo, una parola in più ci va. La prima volta gli ho dato un 8++, nel senso è stato molto scarso, direi 8.7. Anche solo per la ringa finale. Il cast è spettacolare, Jack Nicholson, Tom Cruise, Danny Moore e Kevin Bacon. Cioè, oltre altri, diciamo, attori secondari, il film è bellissimo, è un cult, lo rimarrà per sempre, è uno dei film più belli sui marini, sugli avvocati, sulle giurie, insomma, sui film di avvocatura, chiamiamoli così. Tom Cruise è spettacolare, anche se la scena più bella è quella con la mela in mano all'inizio e Jack Nicholson alla fine, la parte finale è spettacolare. Questo film è più che consigliato. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e se volete lasciate un like. Ciao ciao! Ciao!